Ciao, io sono Yoga Magoga L'idea è questa Caricare strumenti Un fonico e un videomaker su un furgone Partire per un viaggio, vagheremo per dieci giorni a ricerca di musicisti inconsapevoli Occasionali che suoneranno e parteciperanno al nostro nuovo album In modo che tutti siano Da questa esperienza ne usciranno un disco e un documentario Quindi dateci una mano, scegliete tra le ricompense e seguiteci sui nostri profili In Facebook, Instagram, etc, etc E se vi va Io sono Yoga Magoga Ciao, io sono Yoga Magoga